Ma stai fermo! Abbiamo il logo! Mario Ribaschia! Ma tira via! Ha speso del tempo! Te lo do in testa! Ecco sopra lì! Amici di Begolino TV benvenuti! Anche oggi ricchi contenuti in questo momento. Mi raccomando cliccate su Google Chrome, Google Normal, nella pagina YouTube scrivete Begolino Begolino e trovate tutti i vari filmati linkati a radiogurno.it Ma che minchia ho detto! Non lo so! Cosa gonfi? No tranquillo! Allora, no, no, scorreggio no! No, è così, devi farlo così! Guarda, se uno ci deve seguire per queste cagate e tutte le volte che iniziamo suona il telefono! No, ma lo stesso! Stai staccato che è meglio così! Allora, abbiamo lanciato l'iniziativa... Guarda che ho la sciarpa della Clarissa qua! Sì, commentiti anche la sciarpa della Clarissa che così fa pandan con la camicia rosa! Abbiamo lanciato l'iniziativa nel programma di venirci a trovare durante il mese di dicembre agli ascoltatori che sono entusiasti! Ovviamente trovarci non vuol dire venire qui a mani vuote, vuol dire portare delle cose! No! 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 È Natale! Tra parenti si fanno regali! Ma cosa bisogna fare a Natale? Si fanno regali! Ecco, allora! Simoletta scrive, mi piacerebbe tantissimo venire da voi una mattina nelle notte alle 8 e mezza, potrei farvi una cantatina? No, la cantatina non ci interessa! No, la cantatina! No, ma penso che fosse quella del caffè della Peppina! Caffè della Peppina! Caffè della Peppina, facciamo cantare! L'importante è che ci porti una fornitura di caffè importante! Poi, questo invece è molto interessante, lo scrive Simone, perché non venite voi ospiti nella mia rosticceria? Sparate due minchiate e mangiate a gratis e poi andate via! Questo è interessante! Potrebbe essere interessante! Se, 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 se! Questo è assolutamente arruolato! Poi, Savio, vengo volentieri e vi porto i dolci di Napoli! Assolutamente sì! Weee, i dolci di Napoli! Ti chiamiamo subito Savio! Poi abbiamo anche questo, dice, ah! Stavo strani, son Vincenzo, da Castelfiorentino! Ogli ora! Se quello l'apre che ha scritto un altro Marco che porta i panettoni! Bene! Se quello porta i panettoni io porto il vinsanto! Bono! Arruolato! Arruolato! Poi, questo, chiudiamo con questo che dice, secondo voi brutte braccia rubate all'agricoltura! Sì, ecco, saremmo noi! Qualcuno viene a trovarvi? Avete una sola speranza? Pagare Luca da Campi Bisenzi! Non è vero! Non è vero perché sono tanti che ci sono proposti e ci porteranno tante cose per un Natale migliore con le nostre famiglie, non con le vostre! 3482559999 e prenotatevi per essere ospiti nel mese di dicembre! Sì! E c'è anche un regalo per gli ascoltatori da parte della direzione! È vero! È vero! Da parte della direzione! Ma chi paga? Il capo! Ah! Pagli il capo! Benissimo! Non sono d'accordo! Appuntamento alla prossima! Scusa! Bengolino! Bengolino! TV! Olè! Ma perché direi sempre rompere le scatole? Ma porca miseria!